Ciao a tutti, sono la dottoressa Lenia Monopoli ed oggi questo video lo dedico a te che hai il problema di dover lavare quotidianamente i tuoi capelli in quanto si ungono e si sporcano quindi se hai i capelli grassi e che le tue ghiandole sebacee sono iperattive ascolta questo piccolo consiglio allora, innanzitutto non acquistare mai prodotti che debbano idratare e lucidare i capelli in quanto questi contengono di solito degli oli oppure delle sostanze che normalmente li appesantiscono e quindi automaticamente se i capelli grassi te li sporcano il mio vero consiglio è questo alternare lo shampoo classico quello che facciamo con l'acqua la detersione che tutti conosciamo con uno shampoo a secco magari un giorno l'uno ed un giorno l'altro lo shampoo a secco lo si trova in commercio praticamente ovunque si utilizza, lo si trova all'interno di bombolette spray lo si spruzza sulla cute sul cuoio capelluto lo si lascia agire per un quarto d'ora, vinti minuti dopodiché con una bella spazzolata allontaniamo via tutta questa polverina che si forma i capelli tornano ad essere praticamente puliti e la capellatura riprende volume e il volume torna rigogliosa provateci provateci perché la cosa può essere veramente risolutiva se il tuo problema è quello di dover lavare i capelli quotidianamente grazie per l'ascolto